Uno, è partito, la schiacciata va a buon fine, dunque tentativo riuscito da parte del Bungie Team di Veggio che riesce in questa grande impresa. Siamo qui con Gianluca, il protagonista dell'intervallo, della schiacciata più lunga di sempre. Che emozione è stata provare il salto di 25 metri e realizzare il canestro davanti a questo pubblico? È stata un'emozione fantastica anche perché io qua sono quasi di casa perché vengo dal 1997 anch'io a vedere la partita della palacanestro, è sempre stata una mia passione. E quindi farla qui con la mia azienda che abbiamo ideato questa cosa è stato veramente fantastico e emozionante. Poi farla ancora di più perché l'abbiamo fatto delle prove ma c'erano state delle buone sensazioni però a volte ho sbagliato e quindi stasera è andata bene. Quante volte l'hai provata prima di realizzarla? Circa una quindicina di volte, diciamo che in queste 15 volte l'ho sbagliata 6-7 quindi non era molto a percentuale però dai è andata bene.